L'anno appena trascorso ci avrà regalato una cosa bellissima che è l'ansia. Motivo per il quale oggi vi darò 5 modi utilissimi per scaricare l'ansia in ambito di danza. Quante volte vi siete ritrovati dietro le quinte con l'ansia a fior di pelle per l'esibizione imminente, oppure prima di un esame di danza, prima di qualunque cosa vi metta ansia, vi siete ritrovati in ansia e non sapevate come scaricarla. Prima di tutto vi dico i modi che non sono assolutamente utili per scaricare l'ansia e poi vi darò appunto questi 5 modi che ho selezionato, che utilizzo anch'io, per scaricare l'ansia in un momento di ansia. Questi metodi possono servire sia per la danza, in particolare per la danza, ma anche in situazioni diverse dalla danza, può essere anche una situazione scolastica per dire, però andiamo con ordine. Prima di tutto vi avviso subito che un modo assolutamente out per scaricare l'ansia è attaccarsi alle persone, perché così farete in modo di caricare le persone a cui vi attaccate di ansia e sicuramente la persona in questione non vi ringrazierà. La seconda cosa è molto simile alla prima, parlare a raffica con le persone e anche questo trasmetterebbe molta molta ansia. La terza cosa è di rimanere duri e isolati senza fare assolutamente nulla. Questi tre modi sono assolutamente deleteri, anzi alla lunga, poi vi faranno ritornare l'ansia esattamente dove era prima, quindi io vi suggerisco di seguire invece i 5 metodi che seguono. Il primo che utilizzo molto spesso è questo, Sdraiarsi per terra, proprio così, tipo a stella marina e respirare a occhi chiusi, concentrandosi sul respiro. Questa è un'ottima tecnica di rilassamento che aiuta a gestire bene quello che abbiamo dentro, a trasformare tutta l'energia negativa in energia positiva e sicuramente è un ottimo, ottimo metodo. Io lo faccio spessissimo prima degli spettacoli. Un'altra cosa che si fa all'ultimo, almeno io la faccio all'ultimo secondo, però la trovo molto molto utile, è scrollare le mani e i piedi o braccia e gambe. Non in maniera esagerata perché altrimenti la cosa risulta poi stancante per il proprio corpo e per il proprio fiato e la cosa è esattamente quello che non vogliamo, ma aiuta a levare dal nostro corpo le energie negative. Quindi è una cosa stupida, forse è una cosa più di immaginazione che altro, però scrollare mani e piedi, che sono i nostri estremi, aiuta sicuramente tantissimo in questo senso. Quindi sicuramente dopo aver fatto questa cosa piccola e stupida, voi vi ritroverete con meno ansia rispetto a quella iniziale. La terza cosa, io l'ho utilizzata non solo per gli spettacoli, ma anche in situazioni di ansia quotidiana. Quindi mi è capitato di farlo per esempio quando ho fatto il primo tatuaggio, che avevo paurissima del dolore. Un altro momento in cui l'ho fatto è stato l'ultimo vaccino che ho fatto, infatti adesso penso che lo rifarò, perché appunto avendo paura delle siringhe io non riesco neanche a pensarci, ecco. Una cosa molto utile in soldoni, in queste situazioni, è l'autoipnosi. Si fa così, è molto semplice, non serve essere degli scienziati per farla. E ritrovate nella situazione di paura, fermate tutto, fissate un punto e continuate a fissare quel punto. Quando lo continuate a fissare vi concentrate su quello, liberate la mente da qualunque altra cosa e continuate a fissare quel punto. Produrrete appunto, come dicevo prima, un'autoipnosi che vi aiuterà a distrarvi da quello che vi mette ansia o paura. Quarto metodo, sconsigliato a chi ha normalmente dei problemi di fiato, però molto utile, è buttare fuori tutta l'aria. Quindi prendo un respiro profondo e butto fuori tutta l'aria finché i polmoni non sono completamente complessi. Potete ripetere questa operazione anche due o tre volte, ma fidatevi che dopo già la seconda volta vi sentirete in generale più leggeri. Questo è un altro metodo famosissimo per rilassarsi in generale. Quindi fatelo, anche perché l'ansia spesso ci cambia la respirazione, e quindi fa in modo che noi respiriamo in maniera molto più veloce e più agitata. Invece facendo così il respiro torna ad essere regolare, sicuramente ci dà una sensazione più di tranquillità. Ultima cosa che faccio, non molto spesso a dire il vero, però la faccio e l'abbiamo vista anche già in un altro video questo mese, sono i saltellini. Quando l'ansia è veramente palpabile, saltellate, cominciate a saltellare, piccoli saltellini stupidi, non all'infinito perché sennò poi morite, però continuate a saltellare liberamente nello spazio fino a che non vi sentite appunto più leggeri, più allegri e liberi dell'ansia. Insomma, sono cinque metodi che riguardano tutti il rilassamento, il buttare fuori le energie negative, il canalizzare appunto le energie positive dove servono. Quindi spero che vi siano stati utili. Fatevi sapere qua sotto nei commenti se voi le utilizzate o se ne utilizzate altri che possono sicuramente giovare come consigli per tutti noi di questa piccola comunità. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollice in su. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti, compagni di danza, insegnanti di danza e via dicendo, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, ciò che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo con il prossimo video, il 21 gennaio, con il primo episodio del 2021 di What Joe It's in a Day, ovvero la mia challenge alimentare. Invece il prossimo Danza con Joe sarà il 26 gennaio, eccezionalmente di martedì perché il 25 ci sarà la bookstreview. Un bacione e ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!